Essere o non essere? Respirare dal naso o respirare dalla bocca? Questo è il vero dilema. Nonostante negli ultimi anni sempre più evidenze scientifiche supportano la respirazione nasale sia nella quotidianità che durante l'attività sportiva, sento dire da molti atleti e, cosa ancora più grave, da molti coach, che la respirazione non è importante e che si può respirare come si vuole. Niente di più sbagliato. Spendiamo centinaia di euro per prendere delle scarpe in carbonio che ci permettono di guadagnare 1-2 secondi al chilometro e poi non prestiamo attenzione alla respirazione, che è una funzione vitale dell'essere umano. In questo video ti svelerò perché la respirazione nasale è così importante, sia ai fini del benessere che del miglioramento delle prestazioni. Partiamo elencando alcuni dei principali benefici della respirazione nasale. Riscalda, umidifica e filtra l'aria. Facilita l'inalazione di ossido inidrico, un vaso dilatatore che aumenta il trasporto di ossigeno in tutto il corpo. Trattiene una certa umidità dell'aria ispirata, prevenendo la secchezza nasale. Regola il flusso d'aria facilitando la corretta azione del diaframma, promuove l'attività del sistema nervoso parasimpatico, che calma, rilassa il corpo, rallentando la respirazione e il cuore. Al contrario, respirare dalla bocca introduce aria non filtrata e scarsamente umidificata, porta ad una respirazione toracica inefficiente e faticosa, aumenta l'incidenza di russamento e apnea notturne. Porta infiammazione ai tessuti molli delle vie aeree e riduce l'ossigenazione del sangue e dei tessuti, anticipando l'accumulo di acido lattico. Buteico, un famoso medico russo specializzato nella respirazione, ha concluso che l'iperventilazione cronica è uno dei fattori scatenanti di moltissime malattie. L'iperventilazione portata dalla bocca è un comportamento disfunzionale, in quanto comporta un'eccessiva respirazione. Quando respiriamo più aria di quella che il nostro corpo ha effettivamente bisogno, i livelli di anidride carbonica nel sangue scendono sotto il normale. L'anidride carbonica svolge un ruolo fondamentale nella chimica della respirazione. Agisce come trigger dell'emoglobina nei globuli rossi, rilasciando ossigeno nel corpo. Quando l'anidride carbonica è bassa, viene compromessa la capacità del corpo di accedere all'ossigeno dell'area che respiriamo. È l'anidride carbonica, non l'ossigeno, che fornisce lo stimolo per respirare. È l'anidride carbonica, che produce quella sensazione di fame d'aria, che limita la nostra capacità di corsa. Più siamo sensibili alle variazioni di anidride carbonica nel sangue, e prima rimarremo a corto di fiato. E qui entra in gioco la respirazione nasale. La respirazione nasale aumenta la quantità di anidride carbonica nel corpo, e di conseguenza allenarsi respirando con il naso ne aumenta la tolleranza, permettendo un utilizzo più efficace dell'ossigeno. E allora perché la tendenza comune, soprattutto negli amatori, è di respirare principalmente dalla bocca? Perché c'è la falsa credenza che più aria respiriamo e più ossigeno portiamo all'interno dei nostri tessuti. In realtà abbiamo appena visto che non è così. Nel libro di Christopher McDougall, Borturan, si parla della tribù messicana dei Tauro Aumara, persone che percorrono in media 60 miglia al giorno. E uno dei segreti della loro super resistenza è proprio la respirazione. So che te lo stai chiedendo. Corrono respirando esclusivamente dal naso. Questo non avviene solo tra i mitici Tauro Aumara. Basta guardare agli atleti africani, tra cui il campione del mondo in maratona Elliot Kipchoge. Corrono la quasi totalità delle loro attività respirando esclusivamente dal naso. Nel 2018 è stato fatto un esperimento prendendo dei rani armatoriali e obbligandoli per sei mesi a respirare durante le loro corse esclusivamente dal naso. I dati del sangue hanno mostrato una presenza maggiore di anidride carbonica e una migliore ossigenazione del corpo. La respirazione era più lenta e i muscoli respiratori stavano lavorando di meno. Secondo i risultati di questo studio, respirare con il naso è circa un 20% più efficiente di respirare con la bocca. Spero di essere stato abbastanza esaustivo per farti capire l'importanza della respirazione nasale. Ma non fraintendermi, non sto dicendo che nella corsa bisogna sempre ed esclusivamente respirare con il naso. A ritmi intensi, oltre alla nostra soglia aerobica, la respirazione nasale non è più sufficiente. E si può tranquillamente respirare utilizzando anche la bocca. Idealmente si dovrebbe continuare a ispirare dal naso e ispirando dalla bocca, così da mantenere parte dei benefici della respirazione nasale. Così facendo si riesce ad aumentare il volume respiratorio per far fronte a una maggiore richiesta di ossigeno. Quindi ricapitolando, a ritmi facili e moderati è consigliabile respirare dal naso bocca chiusa, così da migliorare l'ossigenazione e aumentare la tolleranza alla anidride carbonica. Quando iniziamo a sentire la cosiddetta fame d'aria, se il nostro obiettivo è aumentare il ritmo, possiamo sfruttare la respirazione oro-nasale, ovvero naso-bocca, per sostenere le nostre prestazioni. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video, ti chiedo di mettere un mi piace e di aiutarmi a condividerlo con i tuoi amici e i suoi gruppi di running. Se questo video arriverà almeno a 2000 mi piace, prepareremo un altro contenuto, specifico sulla respirazione, con esercizi mirati per aiutarti a migliorare. Quindi mi raccomando. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di iscriverti al nostro canale YouTube. Basta cliccare sul bottone qui in basso per restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Spesso chi inizia a correre respirando con il naso trova molta difficoltà e percepisce subito quella fame d'aria e la necessità di aprire la bocca. Se questo è il tuo caso, la tolleranza alla anidride carbonica è davvero minima e va allenata. Il consiglio quando si lavora sulla respirazione, soprattutto a ritmo di fondo lento, è quello di rallentare la velocità. Potrebbe essere necessario rallentare anche di 30 secondi, un minuto al chilometro, per riuscire a correre respirando con il naso. E nel caso di chi è poco allenato, questo potrebbe non essere sufficiente. Alcuni soggetti, poco allenati, per riuscire a respirare con il naso sono costretti a camminare. Bisogna aver pazienza e lavorarci. Con il tempo aumenterà la nostra tolleranza alla CO2. Non scoraggiarti. Con la giusta costanza si possono raggiungere risultati eccellenti. Mi ricordo che quando ho iniziato tanti anni fa a praticare la respirazione nasale nella corsa, ho dovuto rallentare così tanto che spesso nella pista ciclabile mi superavano i vecchietti o le persone in sovrappeso. Ma non mi sono mai lasciato influenzare. Oggi riesco a gestire la respirazione nasale a ritmi decisamente più sostenuti. E mi capita spesso di correre intere maratone respirando esclusivamente dal naso. Esercitati a correre respirando esclusivamente dal naso. Vedrai che con il passare delle settimane non potrai più farne a meno. La respirazione nasale diventerà uno strumento a tua disposizione per migliorare il benessere e perché no le tue prestazioni. Come al solito ti chiedo di scrivere qui sotto nei commenti per farmi sapere le tue considerazioni, se riesci a correre respirando dal naso e se hai eventuali domande. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao.